Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 15 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, potrete trovare soddisfazione soprattutto sul piano lavorativo. Sul fronte romantico, invece, ci saranno disordini per le coppie. Dimostrerete il vostro coraggio sul fronte degli affari. I vostri sforzi sinceri per rafforzare legami familiari daranno buoni risultati. Sembra che lo zodiaco non voglia porre quasi più ostacoli all'espressione del vostro successo. Giocate la vostra partita in ogni settore della vostra esistenza con la consueta grinta e il notevole ottimismo che una potente luna dal buon amico segno del Sagittario vi assicura, specie se appartenete alla seconda decade arietina. Illuminare rende proprio questo vostro stato d'animo, ancor più gioioso. Bella e caliente la luna in Sagittario, opposta a Giove esagerato e a Marte battagliero, peccato che una sventagliata di quadrature messe in opera da Saturno, Nettuno, Venere e Mercurio le facciano perdere un po' di smalto. Risultato, un'emergenza di lavoro o un leggero malessere rovinano la giornata ai viaggiatori, con un serrato programma da seguire per non perdersi nemmeno una chicca del territorio, la meta della loro esplorazione. Ma grinta, ottimismo e fiducia in se stesse aiutano gradualmente a superare tutto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Toro. Cari Toro, i single potrebbero trovare una nuova storia da raccontare con un incontro inaspettato in un luogo lontano dal loro ambiente abituale. Le coppie possono correre il rischio di rompere a causa di un ex amante. Mantenere una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo può mantenervi in salute. La configurazione dei transiti planetari è abbastanza dinamica e fondamentalmente positiva. I pianeti oggi vi fanno letteralmente volare se siete nati in maggio. Non importa se qualcosa va storto in famiglia e nella cerchia di alcune amicizie su cui vi aspettavate un comportamento più accogliente. Avrete soddisfazioni personali e amorose di ben altro spessore. La luna idealista in sagittario oggi vi vuole introspettivi, portati a guardarvi nell'anima facendo un bilancio dei sentimenti, poche amicizie ma molto profonde, giudizio di Saturno e Nettuno in se stile, affetti stabili in coppia o in famiglia ma in vacanza non c'è tempo per le smancerie. Vivace l'eros ma solo a tempo ridotto, in campeggio poi con la tenda vicina a quella degli amici. Il vostro buon tonne risente e l'imbarazzo non aiuta. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, Attività, 7, Finanze, 8, Beneessere, 7. Gemelli. Cari gemelli, alcuni di voi passeranno il tempo con una storia d'amore impossibile nel fine settimana e si leccheranno le ferite. Sabato e domenica non sono giornate difficili per le coppie e le persone motivate faranno progetti per il futuro. Portate la famiglia in un parco divertimenti per una vacanza divertente. Vigilia di ferragosto che vivete in letizia e in armonia con l'ambiente. Giove nel vostro segno vi rende amabili. Potrete contare su armi di seduzione, da scoccare in libertà e starete pur certi che arriveranno a colpire quel che desiderate. E il vostro buon umore, vola. Giornata strana questa per voi, con tante velleità, tanti progetti ancora da mettere a punto, peccato abbiate ancora a disposizione solo poche ore, e allora gambe in spalla, si pedala. Queste le parole di Giove esagerato e Marte iperattivo nel segno, in conflitto con la luna sagittariana all'opposizione, anch'essa portata a eccedere, soprattutto sul fronte dei principi, vi scaldate subito, come una pentola messa sul fuoco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, benessere, 5. Cancro. Cari Cancro, i single potrebbero avere difficoltà a trovare l'amore sabato e domenica. I single preferiranno stare con gli amici piuttosto che impegnarsi con qualcuno. È il cielo delle vacanze a non rendervi proprio ordinati e precisi, come magari gli altri, forse il partner o i genitori, vorrebbero che foste, specie se siete ragazzi e se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Il caos fa parte di voi ed è un elemento fondante della vostra personalità creativa. Previsione planetaria abbastanza buona, in questa vostra giornata di vigilia del ferragosto, in special modo se siete in viaggio o se condividete con persone straniere le vostre giornate. Giornata tutta lavoro, almeno per molti e così la voglia di vacanza, di svago, di ballo vi toccherà tenerla da conto ancora per qualche ora. Tirando dritto come piace alla luna velocista in sagittario nella vostra sesta casa, appunto la stacanovista, riuscirete almeno a chiudere a metà pomeriggio, in tempo utile per saltare in auto o salire su un treno strapieno, puntando dritti alla vostra meta. Meta che, come si conviene a un cancerino doc, la meta sia ancora casa vostra, saranno gli altri casomai a raggiungervi per trascorrere qualche giorno da voi, con il placet di venere e mercurio, gentili e disponibili in se stile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Leone. Cari Leone, per chi è single potrebbe essere il momento di iniziare a frequentare qualcuno. Sabato sera sarete invitati a una serata romantica. Le coppie, invece, potrebbero litigare domenica. Sul lavoro riuscirete a mantenere standard elevati nonostante le difficoltà. Il servizio civile porterà felicità e soddisfazione alla vostra famiglia. Il cielo del pieno agosto è contraddistinto da vari elementi di buon auspicio astrologico. Perché il sole, ospitato nel vostro segno, continua a rinforzare la sicurezza in voi stessi e il desiderio di essere protagonisti, in vari ambienti, da quello amicale a quello familiare, da quello delle nuove conoscenze a quello delle situazioni improvvisate o occasionali. Che slancio, che sprint con la luna in sagittario focosa intrigono in Marte e Giove socievoli e sportivi in sé stile, a dominare la scena oggi il sentimento, amici, amori, figli, liberi o separati vi sentite a un incrocio di correnze emotive, un bombardamento di stimoli ed eccitanti desideri. Occhio a non andare in confusione però, Saturno e Nettuno indeboliscono la luna, ingigantendo l'apparenza a discapito della sostanza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 8, benessere, 8. Vergine. Cari vergine, i single devono tenere a freno le loro insicurezze e le coppie devono recuperare il tempo perduto dopo aver dato più spazio al lavoro negli ultimi mesi. Valutate attentamente la fattibilità di un progetto di investimento prima di investire denaro. A farvi davvero e proprio faro per ogni iniziativa, scelta che dovete prendere, mossa da compiere, ci pensa oggi Mercurio, in provvidenziale angolo benefico, congiunto nel vostro segno, dove il pianeta è ospitato e si trova a completo suo agio. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 29 di agosto, avete a disposizione una grande capacità concreta, decisionale che vi porta a raggiungere risultati di primo ordine. Una lucidità mentale notevole vi aiuta ad aggiustare rapporti familiari che avevano mostrato qualche lieve incrinatura di recente. Sul piano tecnico vi assiste una splendida abilità manuale che vi permette di operare in casa nel bricolaggio nell'aggiustare utensili rotti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Bilancia. Cari bilancia, una luna un po' dissonante vi invita a fare le cose con calma. Sul lavoro potrebbe esserci qualche polemica facilmente risolvibile. Cercate di contare fino a 10 prima di aprir bocca se non volete litigare con chiunque vi circonda. Non prendete vela se qualcosa non va a secondo i piani. Gai, brillanti e nel pieno della vostra forma fisica. Così vi dipinge un bel giove che transita in posizione felice rispetto al vostro segno, dai gemelli, dandovi un'immagine amabile e vincente sotto tutti i punti di vista, specie se nascete a ottobre. Alcuni dissapori che possono intervenire di tanto in tanto nel rapporto genitori, figli e anche nel circuito delle vostre amicizie, non inficiano un quadro limpido e uno scorrimento sereno di questo momento estivo, specie se siete in ferie. Grande amica alla luna entusiasta e gioiosa in sagittario, segno socievole e ottimista come il vostro, perfetto per un'escursione, una festa, uno spettacolo all'aperto, meglio ancora se nella stessa direzione agisce anche la coppia Giove e Marte in gemelli, in segno d'aria intrigono al vostro. Potrebbe essere una giornata fantastica dunque, non fosse per Venere e Mercurio imbronciati in dodicesima casa, oltretutto bersagliati da Saturno e Nettuno che dal segno opposto lì tengono sotto controllo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Scorpione. Cari Scorpione, qualche dubbio potrebbe esserci nel fine settimana per quanto riguarda l'amore, ma questo sarà facilmente risolto. Sul lavoro evitate di perdere troppo tempo in banalità. Ottime opportunità di successo. Usufruiti dei benefici combinati della Luna nel segno del Sagittario e di Mercurio dalla Vergine, pianeti e segni che vivificano mente e spirito. Siete così gratificati in questa bella giornata d'agosto dal perfetto relax, nella quieti dell'armonia familiare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, grazie al fine settimana avete l'occasione di programmare qualche bella attività con il vostro partner, mentre sul lavoro sono favoriti nuovi accordi. Non prendete i vela se qualcosa non va a secondo i piani. Otterrete grandi successi in ogni campo. La vostra grinta, lo slancio con cui affrontate la vostra giornata compensa ogni dissapore o minimo malumore che potrete riscontrare in famiglia. I due luminari dell'edonismo, della fortuna, dell'armonia nell'ambiente, la Luna e il Sole, sono benefici e vi aprono all'ottimismo e a una visione serena della vita. La Luna potentissima nel segno, sportiva, giramondo, entusiasta, sempre gioiosa, oggi si scontra in me con il vostro governatore Giove, sobbillato da Marte battagliero all'opposizione. A tutto ciò che pensate, proponete, dite, sappiate che qualcuno si contrapporrà con forza, se poi prendete in considerazione anche la quadratura di Saturno e Nettuno in Pesci e di Venere e Giove in Vergine, ostili anche tra loro, avrete un quadro completo e di certo non edificante di questo giovedì di agosto. Calma relativa in famiglia, sia pure tra battutine speziate, ma sul lavoro qualcuno pretende la perfezione, peccato che il vocabolo non rientri nelle vostre prerogative. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, grazie alla luna, potrebbe risolversi qualche piccolo dissidio amoroso. Sul lavoro evitare di fare scelte avventate. Rischiate poi di pentirvene e pagare amaramente le conseguenze. Contate fino a 10 prima di aprir bocca. Non prendete i vela se qualcosa non va a secondo i piani. La tendenza in famiglia oggi ad avere posizioni diverse, o, a volte addirittura divergenti, non incrina la concordia, la buona educazione, l'affabilità che dimorano nell'ambiente. Un'ondata astrale positiva, guidata dalla luna in Sagittario, da Mercurio e Venere in Vergine, fino a Urano in Toro, tende a investirvi, regalandovi cospicui doni della buona sorte anche in questa giornata di agosto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 6, benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, evita di lasciarti coinvolgere dai sentimentalismi, devi essere più razionale. Nel lavoro devi trovare più tempo per te. E anche per staccare e riposare. D'altronde siamo a metà agosto e vi meritate un po' di riposo. In famiglia trovate una strada lievemente in salita oggi per riuscire ad armonizzare alcuni contrasti. È possibile che, tra genitori e figli, non ci sia quest'oggi una perfetta intesa, come invece di solito accade. Non vi esponete a prese di posizione troppo rigide e assolutistiche pure nelle amicizie, specie se si tratta di questioni politiche o ideologiche. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 5, benessere, 7. Pesci. Cari pesci, in questo momento vuoi rimettere insieme i pezzi di una storia un po' sottotono. Sul lavoro tieni gli occhi ben aperti per quanto riguarda gli ostacoli. Ci sono ostacoli del cuore difficili da superare. Ma voi affronterete tutto in spirito di grazia e letizia. Profilo dei transiti di questa vigilia di Ferragosto contrassegnato dalla instabilità. Nella Vergine, nei Gemelli e nel Sagittario sono raggruppati dei pianeti che vi faranno apparire la strada in salita. A sostenervi potentemente restano pianeti del calibro di Plutone, Urano e senza scordare l'apporto di un duo straordinario Saturno, Nettuno in congiunzione in pesci. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se lo trovi interessante e utile, non dimenticare di cliccare sul pulsante mi piace. Buona giornata.